Attia, finalmente la vittoria e zero gol subiti per la prima volta in stagione. Finalmente ci voleva sia la vittoria che il cosiddetto cliched. Lavoriamo tanto tutti i giorni, indipendentemente dal risultato, e siamo veramente soddisfatti e felici di aver portato a casa questi tre punti fondamentali per noi, per il morale, per i tifosi. C'è un po' questo senso di liberazione dopo un digiuno così lungo, se vuole trovare una bella domenica così insomma. Sì, assolutamente. Quello che ci dicevano sempre dentro lo spogliattoio, che doveva andare di più, ma era veramente un piccolo passo che bisognava fare, un piccolo grande passo. Oggi finalmente l'abbiamo fatto, ma siamo già con la testa la prossima domenica. Nel corso della gara si è visto un valese più maturo col passare di minuti. Magari all'inizio c'era un po' di paura, anche tu ogni tanto quando ti arrivò al pallone non pensavi troppo a servire qualcuno, ma palla lontana. Ma andando avanti è anche più sicurezza nella gestione del possesso. Sì, stiamo imparando tramite i nostri errori, anche a vedere un attimino il momento della partita. Oggi siamo stati bravi a leggere ogni singolo momento, quando c'era da spazzare, quando c'era da giocare, quando c'era da abbassarsi. E ho detto bene, è un segno di maturità, è un passo che stiamo compiendo e una volta compiuto questo passo ci divertiremo. Grazie. Grazie. Grazie a voi.